Il Salone Bruno Manzi e Ciro Amato di Nocera Inferiore ha ripreso l'attività ed avviato il servizio di prenotazione teso ad affrontare con ordine e responsabilità la gestione del lavoro. Andranno seguite alcune importanti regole che verranno impartite all'interno del locale, a tutela della salute di voi clienti e del personale. Il Salone resterà aperto tutta l'estate, garantendo il servizio anche il lunedì. Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare allo 081 517 4096. Il Salone Bruno Manzi e Ciro Amato vi aspetta in Piazza Amendola a Nocera Inferiore.